ciao a tutti io sono thomas e oggi faremo un video su Kicked Buddy sono insieme al mio cugino Diego che se volete seguirci vedere il canale di thomas dovete iscrivervi thomas festini poi se volete iscrivervi al mio canale dovete iscrivervi su youtube e speditor con la spazio normale 18 attivate la campanellina per non perdervi nessun nostro fantastico video e ovviamente cliccate il tasto iscriviti e se volete fare con me e Diego a fortnite basta che scrivete con me tombrine dopo la T l'h e la T maiuscola ci fate come amici se avete fortnite e invece con Diego basta che scrivete tutto minuscolo tutto minuscolo stavolta e questa qua è una bella potente perchè da un sacco di soldi non si chiama no oh oh questo è una bella bella chieditele di iscrivervi così magari se magari scrivete qualcosa magari dopo vi saluto in qualche video si se se scrivete as saluto io vi io vi prendo e vi saluto god anch'io anche io anche io anche io che non Sì, non devi sottovalutare i miei compiti perchè anche io ne ho molti eh Sì, ma io sono le medie Sì, però te sei più grande di me Eh, sono tanti Abbiamo finito di parlare queste cagate Stiamo facendo un video, facciamolo Sì Ok Allora Vediamo, prendiamo sta berretta Berretta, sì, perchè Aspetta, prima lo facciamo resuscitato Ah no, è già resuscitato Ovviamente noi siamo molto bravi a fare youtuber Perchè io ho cominciato l'altro ieri Cioè veramente l'ho cominciato E' avuto un sacco di video fatti Non ho fatto molto fatti Perché voglio presentare un youtuber famoso Fare un video Ah, potete fare? Che scoperta Il cibo bad Provandilo se mi impiamo bene Oh, cosa fai? Ma cosa fai? Il rischiamento Oh Oh, la stai cimentando E' molto fatti Oh, la stai cimentando E' molto fatti Eh, c'è mezzo armato USTIO Rai, mi rimane sul campo fuori il cappello Lì rimane Sì, perchè non c'è E' più che più e più E' più che più e vi consiglio anche una cosa quando magari giocate a sto gioco mettete la modalità aereo così le pubblicità si tolgono tutte e così non dovete fare tipo mezz'ora di gioco e si tanto a guardare i video poi quando raccogliate torna tutto normale ricordatevi di rimetterla se no i messaggi non vi arrivano e le notizie si perchè poi l'unico problemino è che non potete guardare video per vincere cose vediamo potrei prendere ah c'è sta bomb cake che è tipo una bomba spinosa aspettiamo che è risuscita sto coso ok è risuscitato ho visto il bastone di quel c'è sverla e no il suo cibo vedi visto che lui piace tanto sto cibo gli piace tanto da morire si ma poi è svinuto dal il bacio ah se poi muovete anche lo schermo è tipo come se reagisce se ne mangia grande di quelle torte eh si anche il suo corpo è strano eh sapesse vabbè dai facciamolo mangiare da uno squalo e poi lo picchia pure guarda non vedete come si fa a sopravvivere senza acqua lo squalo e so pure volare lo squalo eh si 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 veramente proprio è arrivato lì si l'ha mangiato senza fare complimenti ho extremeni po' e questo poi lo spiaccica e lanfia e poi lo fa diventare junì bassa però non sapremmo mai non sapremmo mai perchè non si trovano più vestiti quando muore guarda però il cappello riesce a uscire dall'immagine guarda ok sei risvegliato come è morto dove sono finito le mogliette il cappellino poi le nostre sembrano tipo guarda lo uccidiamo di nuovo anche se è morto aspetta gli diamo vita con la macchina e ora devono fare prendo il frizzero ho usato tipo quasi tutti i miei risparmio e non so cosa fa ah si l'ha congelato io ce l'ho con lì ah più tempo lo fai rimanere là dentro più sodio ti da ah io ho capito che dovevo rilanciarlo allora rimani là dentro così almeno non si scongela è come il freezer anche mio cugino ha preso però per me fa un po' schifo sta sto potere sto potere ok è morto mi sa è morto dentro il ghiaccio soffocato eh perché sai non posso buttare tutto il kick the body non posso buttare tutto il body dentro la tomba quindi devo schiacciare un po' ah no era risuscitato che peccato era così povero un povero umano se lo potrei prendere vediamo prendiamo compriamo qualche nuova arma vediamo tipo ah prendiamo le claws lo tagliamo ben benino prima che dopo viene naturalmente risuscitato voi non lo vedete la casa però mio cugino sta facendo dei lo sto scudendo sta lanciando da tutte le parti il suo telefono ah 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 non vuoi che ti vi vi sto risuscitato ah 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 lo tagliamo a pezzi poi si possono pure tirare le parti del corpo my bones si può pure pizziare a cuore gli armati di rapugni in questo gioco si può pure si può pure comprare il sangue però cosa serve il sangue quando tu lo uccidi esce tipo sangue poi rimuove le ads mi sembra forse la pubblicità siamo ben benino lo facciamo una frittatella oh no anzi no lo facciamo lo spezzatino metteranno dai tail vabbè lo usciamo anche mentre è morto visto rivola via la faccia rivola ti stai mi sembra che si può pure tirare Ciao!